50 destri al cartellino, destra 5 lunghe due volte, inattento sinistra 3 tieni, e sinistra 3 tieni, 60, ritarda destra 3 tieni, lascia alla fine, 50, anticipa destra 4 più, e sinistra 5 lasci, inattento sinistra 3 meno tieni, in destra 3 tieni, e anticipa sinistra 5 50, ritarda molto destra 3 più tieni, e ritarda sinistra 3 più, per destra 5 40, ritarda al cartellino sinistra 3 gira, 60, attento destra 2 meno tieni, continua 4 alla fine, e ritarda molto sinistra 3 chiude al casotto, occhio esterno, per destra 3 gira, apre 60, ritarda sinistra 3 meno chiude, per destra inattento sinistra 2 chiude, 80 destri al cartellino bianco, ritarda destra 3 più chiude, 50, destra 5 meno, inattento sinistra 2 chiude, 40, anticipa sinistra 4 occhio esterno, e attento destra 3 meno tieni, chiude, 40, destra 2 più, 50, anticipa sinistra 5 meno, in destra 4 tieni, 70, attento sinistra 3 chiude, subito destra 3 più tieni, 40, attento sinistra 2 meno torna, e destra 3 più tieni, 40, destra 3 tieni, 80, destra 5 meno tieni, inattento sinistra 2 meno torna, 70, ritarda destra 3 tieni, 40, sinistra 3 meno gira, e alla zebra destra 2 più gira, occhio esterno, via vola 100 a vista, destra 6 meno, inattento sinistra 3 meno gira, 40, a rail destra 3 lascia, diventa 3 tieni, chiude alla casa, e sinistra 3 più lascia nel cartello, ritarda sinistra 3 tieni, 60, ritarda destra 3 gira, chiude, 40, sinistra 2 torna, 40, destra 3 più chiude, 50, destra 3 giratieri, no, 60, ritarda sinistra 3 chiude, continua 5 lunga apre, 40, sinistra 4 più no, 50, attento destra 2 meno torna, via ora per sinistra 5 sì, in destra 5 vai, 50, attento ritarda, sinistra 3 torna, no, 40, anticipa sinistra 5, 70, destra 3 tieni, in sinistra 3 chiude, no, continua 5 tieni, inattento destra 3 chiude, in sinistra 2 più tieni, per attento destra 4 lunga, chiude 3 alla fine, in sinistra 3 chiude, per destra 3 chiude, per sinistra 4 lunga no, e attento destra 2 più chiude, e ritarda sinistra 3 più lunga, no, chiude alla fine, in destra 3, per sinistra 3 più apre, vai, no, 40, sinistra 4 meno, in destra 3 chiude, per sinistra 3 più apre, 80, attento sinistra 4 meno tieni, in destra 2, via ora per sinistra 4 tieni, sinistra 4 tieni 100, anticipa destra 5 stringe, 40, attento attento, a rail destra 2 torna, meno 4, 100, sinistra 5 chiude, per destra in sinistra 4 tieni vari, no, 50 a vista, attento a rail destra 2 meno torna, e sinistra 3 più lunga apre, no, continua 5 lunga, no, via ora 150 sinistri, a rail in fondo, sinistra 2 meno torna, no, continua 4 tieni, in destra 3 più tieni, occhio esterno, per sinistra destra no, in sinistra 4 più lunga lunga, no, in attento destra 2 torna, no, e sinistra 4 chiude no, per destra 5 50, ritarda sinistra 4 meno, in destra 4 tieni, no, 40, sinistra 4 chiude vai, 50, attento destra 2 meno torna, e sinistra 3 tieni, chiude, e destra 2 meno gira, chiude, per sinistra 3 chiude, per sinistra 3 chiude, no, per destra 5 lascia, in attento destra 2 chiude, via ora per sinistra 40, anticipa sinistra 4 tieni, no, per destra, per attento sinistra 4 tieni, no, e attento attento destra 4 meno tieni, chiude, in sinistra 2 gira apre, per destra 5 sporca, in ritarda sinistra 4 più apre, e attento sinistra 4 chiude, no, e destra 4 più tieni, no, e sinistra 4 lascia stop, in attento sinistra 4 tieni al rosso, 50, ritarda sinistra 4 no, occhio esterno, 60, destra 4 più tieni, via ora 150, 50, ritarda sinistra 4, 70, attento destra 2 torna, e sinistra 2 meno, torna, chiude, 60 sinistri, attento destra 2 chiude molto, e sinistra 3 tieni, no, per destra lascia 40, attento destra 2 torna, 60, ritarda molto sinistra 4 meno tieni, occhio esterno, e alla zebra, ritarda sinistra 4 lunga, no, chiude, alla stradina interna, continua 5 tieni, in destra 4 meno, in sinistra 3 tieni, stringe, 40 sinistra 4 meno, in attento destra 2 torna, chiude, 50, ritarda molto sinistra 3 lunga, chiude, no, e sinistra 6, 80, sinistra 5, 50, ritarda destra 4 meno, tieni, chiude, in sinistra 4, apre vai, no, 80, destra 3 meno, tieni, 50, sinistra 5 lascia, e attento sinistra 4 più, chiude, no, continua 5 tieni, e ritarda destra 4 gira, attento attento, chiude 2 alla fettuccia, per sinistra 3 tieni, in attento destra 2 torna sconnessa, e sinistra 5 apre, 60 a vista, attento sinistra 4 chiude, per destra 4 tieni, 80, ritarda sinistra 4 tieni, per destra 5, in sinistra 5 lascia, attento diventa 4 tieni sporca al cartello, continua 6, 50, anticipa destra 5, tieni, no, 70, sinistra 4 meno, tieni, no, in destra 4 meno, no, in attento sinistra 3 tieni, chiude, 60, anticipa sinistra 5, per destra, in sinistra 5 lascia, no, in destra 5 meno, per sinistra 5 due volte, in attento destra 4 tieni, continua 4 meno tieni, per sinistra 5 apre, e ritarda destra 2, chiude molto, 40, ritarda al cartello, sinistra 3 chiude, continua 5 tieni, 40, destra 3 più chiude sporca sul fine prova speciale. Se l'ha fatto 9 e 19. Grazie. Pregunt mille. Grazie.